Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, questa sera apriamo parlando di economia. Economista appunto Cottarelli ad Arezzo per un convegno organizzato dalle ACLI ci ha parlato di inflazione e tassi della BCE. Il prezzo è aumentato tantissimo, adesso sta rallentando, la buona notizia è che sta rallentando l'inflazione, però i prezzi crescono ancora troppo, per questo la Banca Centrale Europea ci somministra questa dose di aumento di tassi interesse, però non è che sbagli. A settembre io avrei evitato di aumentare ancora i tassi interesse, però fino a settembre i tassi interesse andavano aumentati, purtroppo questo è un prezzo da pagare per avere inflazione più bassa, inflazione fa male a tutti, ma in maniera diversa. E quindi bisogna ridurla. L'inflazione che continua a correre, ma sembra rallentare il passo, è Carlo Cottarelli, economista, docente all'Università Cattolica di Milano dopo una carriera al Fondo Monetario Internazionale ad Arezzo a parlare di prospettive, potenzialità e limiti dell'economia. Siamo partiti bene quest'anno, il primo trimestre è stato molto forte, poi abbiamo avuto questa flessione nel secondo e credo che una debolezza generale che ci sia in Europa che durerà un po' di tempo. Siamo cresciuti molto rapidamente, siamo usciti noi e l'Europa molto rapidamente dal copy, più rapidamente dal provisto, questo ha un po' surriscaldato i prezzi e adesso in qualche modo dobbiamo frenare un pochino per portare in giù l'inflazione. Un appuntamento alla Borsa Merci organizzato all'interno delle Acli Life Festival. Sono momenti di condivisione, di informazione, di approfondimento per ricreare anche nella nostra città quella consapevolezza che dobbiamo approfondire i temi ma poi stare insieme per costruire il futuro. Una fotografia di opportunità e criticità dell'economia tra diverse tematiche trattate anche nell'ultimo libro di Cottarelli Chimere, sogni e fallimenti dell'economia. Una di queste chimere, forse la più importante, è quella che non era una chimera, sembrava una realtà fino a un anno, un anno e mezzo fa, cioè l'inflazione bassa permanentemente. Le banche centrali, che sono quelle che hanno la facoltà di stampare moneta, sottratte già dagli anni Ottanta del secolo scorso al controllo dei governi, avrebbero dovuto garantire l'inflazione molto bassa. Questo è stato vero fino al 2020, poi questo non è stato più vero. Quindi quella dell'inflazione bassa è una chimera o c'è un qualche errore nella gestione delle banche centrali? E allora adesso invece parliamo di lavoro perché i lavoratori dell'opificio tecnologico di Terra Nuova Bracciolini ancora una volta in sciopero presente al presidio, anche il sindaco di Terra Nuova Bracciolini, c'è davvero molta preoccupazione per il futuro di questa azienda. Un altro sciopero per i 35 lavoratori dell'opificio tecnologico di Terra Nuova Bracciolini, nel Valdarno Aretino, hanno riscosso il 60% dello stipendio di luglio e hanno la promessa, non ancora la certezza, che la quota restante arriverà a ottobre. Sì, è il terzo sciopero perché appunto si viene da un periodo in cui era rimasto in ritardo, quindi non pagato entro i limiti contrattuali, lo stipendio di luglio. Grazie alle nostre iniziative siamo arrivati a strappare un acconto del 60%, ad oggi c'è un comunicato aziendale che parla che il saldo di luglio verrà fatto entro il mese di ottobre, quindi non si sa quando, e entro sempre il mese di ottobre ci sarà un acconto dello stipendio del mese di agosto, considerando insomma che le famiglie in questo momento qui hanno anche delle scadenze di pagamento da effettuare. Così, su iniziativa di FIOM CGL e FIM CISL, i dipendenti hanno fatto un'ora di sciopero e si sono riuniti in assemblea con i dirigenti dei sindacati di categoria. I lavoratori stanno continuando a lavorare, non hanno comunque sia dei ritmi di lavoro tali da, però non sono neanche totalmente fermi, ma non si sa con certezza quanto è il volume di lavoro, quanti sono gli ordinativi, gli approvvigionamenti dei materiali, quali sono le cause che magari determinano un rallentamento. Si sta chiedendo appunto un incontro in maniera trasparente, in maniera seria. Soprattutto non riusciamo a capire qual è il futuro di questa azienda, più che essere preoccupati per il presente, siamo preoccupati per il futuro. Questa è un'azienda che in questo momento dovrebbe lavorare a pieno, e purtroppo non lavora a pieno, anzi non sappiamo neanche come lavora, perché lavora a singhiozzo, non tutti i lavoratori sono occupati in maniera adeguata e questo crea delle forti difficoltà, soprattutto per il futuro. Siamo alla cronaca incidente stradale, oggi intorno alle 14 a Pieve al Toppo, nel comune di Civitella in Valdichiana, si è trattato dello scontro tra due vetture, e per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, anche se ci sono state delle importanti ripercussioni sul traffico. Sul posto i vigi del fuoco del comando Arettino e la polizia municipale di Civitella in Valdichiana. Ancora una cucciolata di mici, di gatti, trovata a ridosso dei bidoni dell'immondizia. Questa volta si è trattato di tre gattini di circa 15 giorni di vita. A denunciare l'episodio con un post sui social è stata l'associazione Casa Mau di Cortona che si sta prendendo cura grazie alla disponibilità di volontari dei gattini. Tre cuccioli, spiegano dall'associazione, sono stati trovati nei cassonetti dell'autogrill a Lucignano. A fare la scoperta è stato un addetto dell'azienda che si occupa delle pulizie. Ci ha chiamati e appunto ci ha informati della presenza dei tre gattini. Purtroppo, come raccontano i volontari, negli ultimi mesi la situazione sta davvero precipitando. Sarebbero infatti molto numerose le cucciolate di gatti che vengono trovate abbandonate. Adesso torniamo a parlare della vicenda della bimba. Lo ricorderete che era stata colpita da alcuni pallini in caduta a Patrignone sul Visino. Per fortuna per lei non ci sono state conseguenze gravi, ma sull'episodio era stata l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente a dire, insomma, ad annunciare che sarebbe stato presentato un esposto e così è stato. Ce lo conferma infatti il presidente Lorenzo Croce e dice appunto che questo non sarebbe l'unico fenomeno sul territorio nazionale appunto di questo tipo. Adesso invece parliamo della nomina di Francesco Macria, presidente di Estra. Secondo il Consiglio di Stato nel 2017 fu una nomina illegittima, ma adesso il presidente di Estra però è stato rieletto con tutti i crismi. Nel 2017 la nomina del presidente non fu legittima per il mancato rispetto della legge Severino. Il Consiglio di Stato così si è espresso sul controverso caso della nomina di Francesco Macri alla guida di Estra. Secondo i giudici non era trascorso il previsto periodo di raffreddamento di due anni dalle dimissioni da consigliere del Comune di Arezzo, che partecipa Estra tramite Coingas al CdA e quindi alla presidenza dell'SPA di Gas e Energia, una società sottolinea il Consiglio di Stato di diritto privato a controllo pubblico. I giudici e amministrativi di Roma confermano dunque in pieno quanto già deciso dal Tar della Toscana, che aveva respinto il ricorso presentato contro la delibera di Anac, che a fine 2021 dichiarò decaduto il leader locale di Fratelli d'Italia dal suo ruolo alla guida di Estra. Una battaglia legale proseguita poi sino al Consiglio di Stato, che lo scorso 21 agosto ha depositato le motivazioni della sentenza, una decisione, quella dei giudici romani, che comunque non avrà alcun effetto sul piano della giustizia penale, tutti assolti dall'accusa di abuso d'ufficio e dell'attuale assetto di Estra. La recente nomina di Macri alla presidenza, infatti, non è mai stata messa in discussione. Siamo alla politica. Il sindaco di Montessanzavino, Gianni Bennati, risponde ai consiglieri regionali del PD, Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, rispetto al fatto che lo avevano accusato di aver offeso gravemente la regione toscana in relazione alla polemica sui finanziamenti della Toscana per i piccoli comuni. La risposta piccata dei consiglieri regionali Ceccarelli e De Robertis, scrive Bennati, è la prova che ho ragione. I consiglieri dovrebbero rispondere per quale motivo nei comuni dai 5.000 ai 20.000 abitanti. I sette progetti finanziati sono tutti di comuni di area di centro-sinistra. Forse, si chiede Bennati, sono stati più bravi nella redazione dei progetti stessi. Idee e azioni per vivere meglio nelle città. Questo è il messaggio che campeggia su un volantino che da alcuni giorni circola in città. Invita a partecipare ad un'assemblea pubblica che si terrà proprio domani. Giovedì 28 settembre in piazza Sant'Agostino. L'organizzazione della lista civica di Sinistra Arezzo 2020 che ha chiamato a raccolta e quindi anche ad intervenire tutte le forze che potrebbero far parte del cantiere elettorale di una coalizione posizionata nel centro-sinistra per preparare il programma, la campagna elettorale e le candidature proprio per il rinnovo della carica di sindaco nella città di Arezzo. Adesso invece parliamo di questi studenti del Marconi, il professionale che ha sede in Valdarno e che da poco prima dell'inizio dell'anno scolastico è stato dichiarato inagibile per il crollo del solaio in una delle 22 aule. Ovviamente insomma è stata una misura di sicurezza ma gli studenti dicono è leso il nostro diritto allo studio. Siamo qui per protestare contro un diritto che non ci viene dato, non ci viene riconosciuto, il diritto allo studio. Un flash mob silenzioso in piazza Cavour davanti a Palazzo D'Arnolfo a San Giovanni Valdarno. Così gli studenti dell'istituto professionale Marconi protestano e reclamano il loro diritto allo studio. Il plesso con le sue 22 aule che ospitano 470 alunni è stato dichiarato inagibile poco prima dell'avvio dell'anno scolastico a causa del crollo del solaio e del controsoffitto in una delle aule. Siamo ragazzi che domani affronteranno il futuro e quindi noi desideriamo, anzi vogliamo, che intanto questo diritto allo studio ci sia dato e che domani possiamo arrivare a prendere il futuro con le mani. Gli alunni nel frattempo sono stati trasferiti nel plesso dell'istituto Ferraris in via Gramsci per garantire una ripresa delle lezioni che però non è stata al 100%. Fino ad oggi avrebbero effettuato solo tre ore di lezione anziché cinque e anche l'uso dei laboratori, questo è un indirizzo professionale, non è stato possibile. Questa è la nostra scuola, noi avremmo bisogno di un tetto ma non c'è un tetto. Avremmo bisogno di studiare ma c'è stata negata questa opportunità. La domanda vera adesso è cosa farà la provincia, sarà in grado veramente di agire. La provincia assicura che la prossima settimana tutte le classi dell'indirizzo moda saranno ospitate nei locali della parrocchia di San Lorenzo a Montevarchi. Per quello che riguarda invece il plesso Marconi, in circa due mesi, entro il mese di novembre, le aule dovrebbero essere messe in sicurezza e gli studenti potrebbero finalmente tornare da loro scuola. Intanto per le prossime settimane, per questi studenti, si potrebbe profilare la possibilità delle cinque ore di lezione in DAD. Soluzione non certo ottimale per i ragazzi, ma che potrebbe garantire il regolare svolgimento dell'orario scolastico. Il metodo rondine potrà essere esportato in tutte le scuole italiane. È stato infatti firmato a Roma un protocollo di intesa tra l'Associazione Rondine Cittadella della Pace e il ministro Valditara. Relazione, conflitto, visto non più come una minaccia, ma come una risorsa potenziale e gruppo classe. Sono queste le parole chiave di Sezione Rondine. Un progetto diventato in provincia di Arezzo a realtà nel 2021 e che adesso potrà essere esportato in tutte le scuole italiane che ne facciano richiesta. Il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara ha infatti firmato il protocollo di intesa per proporre la sperimentazione. È il riconoscimento del lavoro di Rondine con la scuola da tanti anni ed è il lavoro anche proficuo tra tutta l'esperienza di Rondine fino ai ragazzi internazionali che vengono ai luoghi di guerra che sono la forza morale che ha dato vita a tutto questo e la collaborazione con le scuole a cominciare dal territorio di Arezzo con l'ufficio scolastico provinciale dottor Roberto Cultolo, l'ufficio scolastico regionale i presidi e i professori che si sono messi in gioco con una formazione davvero straordinaria che li sta rimotivando in oltre 25 città italiane. La sezione sperimentale ad oggi vede già 37 classi in 15 regioni ed oltre 500 docenti formati un'offerta educativa e formativa centrata sul metodo Rondine per la trasformazione creativa dei conflitti. Un progetto partito da un ambito locale che grazie a Rondine e a tutto il suo mondo che intorno alle ruote è riuscito a uscire dalla sua dimensione territoriale per passare a una dimensione di livello nazionale. Tutte le scuole potranno quindi adesso prendere in considerazione il progetto Rondine come un progetto strutturale per i loro percorsi di studio. Alla firma presente anche Alberto Belli Paci il figlio della senatrice Liliana Segre che nel 2020 ha rilasciato a Rondine la sua ultima testimonianza pubblica. Circa 30 fra rappresentanti di associazione degli studenti universitari dell'Ateneo Senese daranno vita insieme all'assessore Federico Scapecchi che la presiede alla prima seduta della consulta comunale dei giovani. L'appuntamento è per martedì 3 ottobre alle 16.30. presenta all'informa giovani presenti come da regolamento anche il presidente della commissione consigliare competente e il rappresentante dell'ufficio scolastico provinciale. Torna ad Arezzo il Giro del Mondo in appena 3 chilometri con il mercato internazionale. Il Giro del Mondo è in 3 chilometri tra piatti tipici, cibo di strada, birrifici e sapori esotici in pieno centro storico. Arezzo è pronta ad ospitare la diciassettesima edizione del mercato internazionale. Oltre 190 gli operatori stranieri provenienti da 35 diversi paesi e 300 gli stand tra cucine lontane e locali che dal 6 all'8 ottobre torneranno nell'area Eden in via Guadagnoli, in via Nicolo Aretino e in via Margaritone. Crediamo davvero un'occasione importante che si confermerà come lo è stato negli anni scorsi e rappresenterà soprattutto in un momento come questo ovviamente una certezza anche per i movimenti turistici non solo della nostra città. Mercato internazionale sì, ma anche con un occhio di riguardo al territorio e ai prodotti che caratterizzano Arezzo e la sua provincia. La nostra forza è stata quella di inserire all'interno del circuito internazionale quindi di questi ad oggi 190 banchi che vengono da tutto il mondo delle specialità e delle eccellenze del nostro territorio. Quest'anno sono 90 i banchi del nostro territorio che propongono eccellenze della nostra zona più 20 anche attività agricole e anche quelle per testimoniare che nel territorio della provincia di Arezzo ci sono eccellenze molto importanti. E chi viene a visitare il mercato internazionale che viene ovviamente per curiosità per mangiare la paella piuttosto che un piatto greco piuttosto che un piatto israelario quando viene qui poi trova queste eccellenze ed è molto soddisfatto. Ecco questa è una coppiata vincente. Street food, cibi e sapori ma anche spettacoli, iniziative speciali, visite guidate e shopping. Tanto artigianato, prodotti no food, tante novità da tutto il mondo ma anche la presenza appunto di eventi collaterali come in Piazza Sant'Agostino dove grazie alla collaborazione con i commercianti della piazza ci sarà uno spettacolo musicale molto importante sabato 7 ottobre alle ore 21 con gli Omagroso Live. ConfCommercio insieme agli operatori della piazza hanno regalato quindi in queste tre giorni alla città questo bel evento. Gli operatori di ombra come sempre al servizio della sicurezza della manifestazione. Facciamo del nostro meglio per rendere le situazioni più fluide e tranquille possibile. Ed infine chiudiamo con lo sport anche se il servizio riguarda non una partita di calcio ma il presidente dell'Arezzo Calcio Femminile che è appunto stato festeggiato dalle sue ragazze. Festa in casa a Maranto le ragazze dell'Arezzo Calcio Femminile hanno così augurato buon compleanno al presidente Massimo Anselmi. Una grande sorpresa, un bel gruppo. quest'anno abbiamo veramente creato qualcosa in più e sono veramente soddisfatto di come reagiscono a tutte le situazioni. Veramente una bella squadra. Festeggiamenti ma anche una nuova settimana di allenamento in vista della trasferta di domenica a Verona. La partita di domenica sarà un appuntamento importante perché saremo in trasferta incontreremo una squadra sicuramente preparata una squadra che arriva da una sconfitta quindi sicuramente vorranno rifarsi da questo risultato negativo. Noi dalla nostra parte abbiamo un risultato positivo ma anche una settimana di riposo quindi bisogna ricominciare un pochino tutto da zero continuando sulla linea d'onda che abbiamo seguito fino ad adesso per poi prepararci e arrivare a fare una grande partita di nuovo con la Lazio in casa. Con la Lazio giochiamo spesso direi. Abbiamo fatto l'ultima di campionato anno scorso siamo ripartiti con la Coppa Italia proprio contro la Lazio ci ritroviamo alla terza di campionato contro la Lazio quindi effettivamente negli ultimi tre mesi abbiamo avuto tre partite importanti la prossima sarà sicuramente altrettanto diciamo importante per noi. Tutte le partite sono importanti e molto importante per la nostra fase di sviluppo. Giorno per giorno settimana per settimana sempre facciamo piccoli momenti passi di sviluppo e quello siamo tutti con la stessa mentalità e questo è veramente bello. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese e attenzione arrivederci.